Quindi la conoscenza deve essere la saggezza. Quando unisci la conoscenza e la saggezza già cambia tutto. L'amore finisce a se stesso. L'amore che conosciamo tutti è gelosia, possesso, dominio, controllo, manipolazione, casino. Quando l'amore associa la volontà, la volontà nell'albero della vita è la sfira più alta che è terra, la corona, perché è la volontà divina che poi emana e crea questo mondo. Quando unisce l'amore alla volontà l'amore fa un salto così. L'azione deve essere unita al coraggio. Quando l'azione è unita dal coraggio, hai fatto meno. Quindi conoscenza con saggezza, amore con volontà, azione con coraggio. Questi tre poteri devono essere sempre allineati a qualsiasi scelta di vita noi facciamo. Se uno di questi non è allineato, la scelta che stiamo facendo ci porterà a risultati da mediocre a scarsi fino a disastrosi. Perché se sai una cosa, ne senti un'altra e ne fai un'altra ancora, ciao, sei da ricordo. Ok? Se sai una cosa e la fai, ma non la senti, non funziona. Ok? Se senti qualcosa e la fai, ma ti manca la conoscenza e la saggezza, puoi fare grandi errori. Giusto? Fate il gioco. Provate voi. Conoscenza con saggezza, amore con volontà, azione con coraggio. Provate tutte le varie combinazioni. Ok? Faccio una cosa, non la sento e non la so. Sto facendo un casino. So una cosa, non la sento e non la faccio. Oppure so una cosa e non la sento e non la faccio. La sentite? Che stona tutto? Ma quando sai qualcosa con la saggezza, vuoi farla con il cuore. Amore con volontà è questo, no? Il desiderio del cuore, la volontà. E la fai con forza e determinazione e coraggio capo lavoro dello Spirito. Quindi questi sono i tre poteri. Che cosa facciamo? Adesso ognuno di voi passerà e scenderà tre foglie che gli risuolano. Belle, devono essere belle, intere, no? Sono freschissime, sono meravigliose queste foglie. E si preparerà il Son Kintu che andrà tenuto con la parte verde della foglia verso la persona e con questi, come si chiamano, dei piccioli, in basso. Ok? Create questo Kintu. Ognuno lo prende, io anche. Cominciate a connettervi con la vostra intenzione. Qualcosa, come avete detto, di concreto, preciso laser. La prima cosa da fare è soffiare sulle foglie, cioè trasferire alle foglie i vostri tre poteri. Quindi, soffi, conoscenza, con saggezza. Soffi amore con volontà. E soffi azione con coraggio.